Circa 12 milioni di euro di fondi pubblici saranno devoluti a 3.473 imprese siciliane. Lo ha comunicato l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano. Si tratta dei contributi a fondo perduto per i GAL, gruppi di azione locale, previsti dal bonus Sicilia per lo sviluppo delle attività locali. Soddisfazione è stata espressa dallo stesso assessore Turano, il quale ha specificato che ulteriori liquidazioni saranno autorizzate via via che procedono i controlli sulle dichiarazioni rilasciate dalle imprese in sede di partecipazione all'avviso pubblico. Si tratta delle aziende che operano nei territori di 17 gruppi di azioni locali, quali Golfo di Castellammare, Neblo di Plas, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca, Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Terre di Aci, Eloro, Terre del Nisseno, Madonie, Metropoli Est, Etna, Etna Sud, Natiblei, Taormina, Peloritani, Valli del Golfo e Valle del Belice.